È domenica e occorrerebbe fare l'omelia sui testi della domenica, come sempre faccio. Però è pur vero che ieri, 31 luglio, è stata la festa di Sant'Ignazio di Loyola e oggi vorrei raccontare a chi mi ascolta un pochettino la sua vita e quello che può insegnare Sant'Ignazio alla contemporaneità, gli uomini di oggi. Perché non parliamo mai di lui, noi gesuiti ne parliamo troppo poco e perché siamo nell'anno ignaziano. Infatti esattamente 500 anni fa, nel 1521, Sant'Ignazio visse quella che fu la sua conversione spirituale, una trasformazione interiore molto profonda che ha vissuto diverse fasi, che chiaramente è stato sempre un uomo alla ricerca della volontà di Dio e diciamo così in conversione, ma fu l'anno 1521 che segnò veramente la propria esperienza interiore, che sarà poi luce per tante persone che seguiranno le orme di quello che lui mise per iscritto e che aveva vissuto personalmente, mise per iscritto nel libretto degli esercizi spirituali. Chi era Sant'Ignazio di Loyola? Ignigo López de Aspetia era un uomo di corte, possiamo dire, un cortigiano, che viveva alla corte del Duca di Nájera, nella regione spagnola della Navarra. Il Duca di Nájera era Don Antonio Manrique de Lara e un uomo di corte di quell'epoca sapeva amministrare, imparava ad amministrare i beni di famiglia, sapeva scrivere, era disponibile ai vari servizi che si potevano presentare nella cassa del vicere e chiaramente sapeva anche tirare di scherma, sapeva mettere mano alle armi se questo doveva essere necessario. Fu coinvolto nella lotta che si tenne appunto tra l'esercito del vicere di Navarra e un esercito francese. Fu ferito a Pamplona, nella famosa battaglia di Pamplona, dove lui mostrò molto coraggio, voleva andare in fondo a questa battaglia anche se la propria fazione stava perdendo. Uomo di onore, potremmo dire, coraggioso, volle insistere e in quell'insistenza trovò una ferita attraverso una palla di cannone alla sua gamba. Ora quella ferita avrebbe ridotto Sant'Ignazio ad essere zoppo, con tutta l'antiesteticità della sua andatura. E allora è interessante leggere a questo proposito il paragrafo 4 dell'autobiografia. Lui era in convalescenza, le ossa andavano ormai saldandosi, ma sotto il ginocchio un osso rimase sovrapposto all'altro, di modo che la gamba rimaneva più corta. Per di più quell'osso sporgeva tanto da apparire una deformità e questo lui non lo poteva sopportare. Intendeva continuare a seguire il mondo e quel difetto sarebbe apparso sconveniente. Per questo interrogò i medici se si poteva tagliare quell'osso. Risposero che lo si poteva tagliare, certo, ma il dolore sarebbe stato più atroce di tutti quelli già sofferti, perché l'osso ormai si era saldato e perché l'intervento era lungo. Nonostante tutto, per suo capriccio decise di sottoporsi a quel martirio. Suo fratello maggiore, spaventato, diceva che non avrebbe mai avuto il coraggio di sottoporsi a tale atrocità, ma l'infermo la sopportò con la consueta forza d'animo. Ecco, questo dice qualcosa di Ignazio di Loyola, una certa caparbietà, se vogliamo, testardaggine, in questo caso nel campo della propria bellezza, nel campo della propria immagine. Sant'Ignazio voleva seguire il mondo, voleva essere bello agli occhi del mondo, voleva apparire un uomo gagliardo, diremmo in romano figo, e proprio per questo si sottopone all'atrocità di un intervento, ovviamente senza anestesia, per avere la stessa, per poter camminare bene, cioè bene vuol dire senza deformità, senza apparire zoppo agli occhi degli altri. Ecco questo Ignazio di Loyola, Ignazio di Loyola all'inizio è questo, è anche una persona che litiga con un musulmano e si chiede se è il caso di ucciderlo o meno per l'affermazione inopportune che aveva fatto sulla Beata Vergine Maria. E dipende, se la mula andrà da una parte, dalla strada dove è andato il musulmano, lui lo seguirà e lo ucciderà, se la mula andrà dall'altra parte non lo ucciderà. Ecco, quindi affida la vita di una persona al movimento di un animale. Queste persone così, senza discernimento all'inizio, poco illuminate, che amano fare bravate, che vogliono apparire gloriosi agli occhi del mondo, queste non vengono rifiutate da Dio ma vengono trasformate in santi, cioè in soggetti separati dal mondo. Ignigo Lopez de Aspeitia diventerà Sant'Ignazio di Loyola. Perché è famoso? Perché lo possiamo ricordare? Ma ci sono vari motivi. Allora, anzi, prima di passare a questo voglio dire che se Sant'Ignazio è stato così, non dobbiamo temere le nostre piccolezze, le nostre povertà, perché con quello scarabocchio che siamo Dio può fare un capolavoro. E questo non ce lo dobbiamo dimenticare. Gente povera, gente orgogliosa, gente povera voglio dire spiritualmente, gente orgogliosa, gente vanitosa, vanessia, può diventare gente che insegna a generazioni come cercare Dio, come incontrarlo, come servirlo. Dunque, perché è famoso? Ma ci sono vari motivi. Non è proprio conosciutissima la sua biografia e consiglio a tutti di leggerla. L'hai mai letta l'autobiografia di Sant'Ignazio? Ecco, allora, è famoso per essere stato un pellegrino. Infatti l'autobiografia è il racconto di un pellegrino. Un pellegrino in vari sensi, sia fisicamente. Il suo primo desiderio è quello di andare a Gerusalemme e vivere lì, per poter lì aiutare le anime. Non gli riuscirà, tornerà in patria, nella sua Spagna, e con il desiderio di aiutare le anime. E per questo si dovrà muovere. Sarà prima a Barcellona a studiare, poi ad Alcalá, poi a Salamanca, e poi a Parigi. A Salamanca e ad Alcalá ebbe problemi non piccoli, perché l'inquisizione metteva in dubbio, diciamo così, il suo apostolato. Stette anche in carcere. Per poter sopravvivere nel periodo parigino dovette andare più volte nelle Fiandre, a cercare l'Elemosina. Se non ricordo male, tocco anche l'Inghilterra. Insomma, è un pellegrino. Si deve muovere per vivere. Poi arriverà a Venezia con i suoi compagni, e infine a Roma, dove diventerà generale, primo generale della compagnia di Gesù, per poi, e quindi per guidare, la compagnia. Ma è un pellegrino anche della volontà di Dio, non solo un pellegrino fisicamente, perché? Ma perché quando capisce che non è cosa di Dio fare, portare a termine quello che lui aveva pensato, ebbene, non si dà per vinto, ma cerca la volontà di Dio altrove. Caro Ignazio, caro Ignigo, a Gerusalemme non puoi restare, gli viene detto dal superiore dei Francescani. E lui accetta quello che l'autorità ecclesiastica gli dice. Torna in Spagna, si chiede cosa fare, e cerca. Per ora devo studiare qui. Non sono a lungo raggio i suoi progetti, sono a volte a breve termine, quelli di studio quantomeno. Li affronta dando tutto se stesso. È un pellegrino della volontà di Dio, che cerca cosa il Signore vuole, e smetterà per iscritto nel libretto Gli Esercizi dei metodi per cercare la volontà di Dio. Chissà quale sia la volontà di Dio per te, te lo sei mai chiesto? Poi, Ignazio non si sa molto, ma è un mistico, è un uomo che vive in profonda comunione con Dio, un uomo che ha avuto esperienze spirituali interiori straordinarie, come quella del Cardoner, dove, come dice lui nella sua autobiografia, gli sembrava di aver capito e sentito più cose in quell'occasione che in tutta la sua vita. Molto aveva studiato, molto aveva pregato, ma lì al Cardoner ebbe delle illuminazioni non molto esplicitate, a dir la verità, nell'autobiografia, che saranno più arricchenti, più piene di tante altre esperienze interiori e di preghiera che visse il nostro amico. Era capace di stare ore e ore in preghiera e anche quando sarà dal 1540 in poi il generale della Compagnia di Gesù non trascurerà mai la preghiera, anzi sarà per lui strumento per cercare di capire quale fosse il meglio da mettere per iscritto per la nascente Compagnia di Gesù. Poi, cos'altro? Beh, Ignazio è l'uomo che ha cercato amici, ha cercato amici che condividessero la sua stessa missione, che era quella di portare al mondo il Vangelo, di annunciare il Vangelo e aiutare le anime attraverso quello strumento efficace e potente che sono gli esercizi spirituali ignaziani. Hai mai fatto gli esercizi spirituali? Hai mai preso sul serio la possibilità di dedicare anche solo pochi giorni a un ritiro ignaziano? 1534, a Parigi, lui e i primi compagni si consacrano a Montmartre, nella cappella di Montmartre. Nel 1537, se non sbaglio il 24 giugno, data di Giovanni Battista, vengono ordinati sacerdoti a titolo un paupertatis e poi, nel 1540, c'è l'approvazione della Compagnia di Gesù. Nel giro di dieci anni, dieci uomini diventano mille uomini, un ordine religioso storico, famoso per aver portato la parola di Dio in tutto il mondo, famoso per le sue missioni, per l'impegno nel campo dell'educazione, nel campo della cultura. Si chiama Compagnia di Gesù, Sant'Ignazio la definiva minima, sia minima nell'umiltà e possa morire come il granello di senape per portare molto frutto ad maiore and dei gloria. Amen. Grazie per aver ascoltato questa omelia.